padre ho molto peccato dimmi figliuolo cos'è successo non mi sono adeguato a questo benedetto gdpr non so come fare temo le sanzioni dell'autorità garante è mesi che non dormo dai su qualche informativa l'avrai fatta firmare purtroppo no ma neanche il registro di trattamenti neanche quello misericordia cioè mi stai dicendo né in veste di titolare né di responsabile no padre caro figliuolo la situazione è più grave di quello che pensavo sono scuro che almeno la valutazione d'impatto l'avrai fatta no padre neanche quella lo so ho molto peccato santo cielo qui ci vorrebbe proprio un miracolo nuovo software privacy gdpr per adempire in modo facile e veloce a tutti gli obblighi previsti dal gdpr compilazione guidata assistenza gratuita 24 su 7 e guide create ad hoc per lo studio professionale ma anche lei qui per la privacy no padre in realtà sarei qui per l'antiriciclaggio grazie a tutti grazie a tutti